Buongiorno, saluto a tutti dietro questo video. Non ho la mascherina solo perché sono in un ambiente abbastanza perfetto, quindi me lo posso permettere. Idee, pratiche innovative di inclusione scolastica, un dialogo a più voci. L'ultima mattinata che la settimana del lavoro di quest'anno di Ismel dedica alla scuola, pone alla scuola. È una settimana che è stata molto intensa e ha visto il riconoscimento della scuola come agente autonomo di informazioni. Come partire, come affrontare questo ultimo tassello che ci riporta al tema iniziale, che è quello dell'inclusione. Io penso che non si possa non partire, se non ancora una volta, da quell'articolo rivoluzionario della Costituzione. Ricordo, insomma, nei dibattiti rivoluzionali, soprattutto Giaminelli e Basso hanno operato su questo articolo in modo molto forte, imponendo quella parola che è rivoluzionario, promuovere. Nessuna costituzione nel mondo promuove. La Costituzione sostengono, riconoscono i diritti, ma promuoverli, soprattutto se sono diritti sociali è un bel impegno. Un impegno che la nostra Repubblica si è presa tanti anni fa e che quindi in qualche modo deve cercare di realizzare. E questo fa sì che l'inclusione in qualche modo non possa essere percepita come un aggettivo ornamentale della scuola. Non è una cosa che si appiccica alla scuola, ma è piuttosto forse uno degli elementi più strutturali, più organici che il mandato costituzionale dà alla scuola. Perché? Perché riguarda sostanzialmente le due caratteristiche che la scuola pubblica deve avere, e cioè l'eguaglianza della possibilità di accesso al sapere e l'eguaglianza della pratica sostanziale con cui questo accesso al sapere viene realizzato in ambito scolastico. Il problema è che con tutto l'impegno, questo elemento dell'inclusione rimane abbastanza un obiettivo. L'abbiamo visto emergere proprio in una lente di ingrandimento nel tempo del lockdown, in cui le difficoltà sono scopiate e la differenza di partecipazione alla vita scolastica da parte degli allunni, degli studenti, degli addievi, è stata molto evidente. Si parla di un milione, milione e mezzo di ragazzi che non hanno potuto accedere alle attività supplettive alla scuola, non era scuola, ma comunque c'erano delle attività che in qualche modo cercavano di mantenere il legame tra i ragazzi e il sapere. Ecco, tutto questo è il dato che abbiamo sotto gli occhi. Però sappiamo anche che nella scuola ci sono delle iniziative, delle attività continue, degli sforzi non indifferenti, perché la scuola possa essere effettivamente la scuola di tutti e di ciascuno, quindi nella logica dell'articolo 3 della Costituzione e dell'impegno della didattica inclusiva. E quindi la scuola che possa diventare effettivamente un agente consapevole di ugualianza fondamentale per essere cittadini dei richiedi. Ecco, si opera su diversi piani. L'unico problema che forse tiene lontano l'obiettivo dell'inclusione piena è quello della mancanza di un progetto di sinistra. Cosa servirebbe a questo? Che tutte le azioni che si fanno fossero percepite dai singoli insegnanti, dalla scuola tutta, come presenti partecipi di un unico progetto che ha questo importante obiettivo. Io però penso che al di là delle lamentele e della sofferenza sia secondo me importante valorizzare le esperienze che sono io. Perché proprio valorizzandole si permette a queste esperienze di diventare più potenti, di diventare modelli, di estendersi, di essere percepiti e vissuti come strade che possono essere percorse da qui. Ecco il motivo per cui questa mattina comincia e si realizza con la presentazione, lo sviluppo, la riflessione di due esperienze diverse tra di loro ma indubbiamente complementari e che possono essere senz'altro utili per aprire un confronto su come è possibile rilanciare sia in questo momento di emergenza ma soprattutto quando l'emergenza, speriamo presto, sarà superata, di rilanciare un processo di cambiamento della scuola in questo momento. Le due esperienze sono diverse anche dal soggetto che le attiva. La prima è attivata da un soggetto esterno della scuola con una proposta, fornendo alla scuola delle risorse che diventano però scuole, che non rimangono un'aggiunta ma che sono poi vissute dalle scuole come un fatto proprio, insomma, quindi con la possibilità anche di autonomia. E la seconda invece è un'esperienza che dimostra come nella scuola esistono le competenze necessarie, sufficienti, utili, perché effettivamente l'innovazione necessaria all'incremento dell'inclusione possa... La prima è ovviamente, come avete visto nel programma, è il progetto Riconnessioni. Riconnessioni opera proprio a tutto piano, insomma, per dare, per potenziare nella scuola alcune caratteristiche che la Fondazione San Paolo che la promuove, in qualche modo ritiene essenziali per la scuola, che sono la scuola come laboratorio, la scuola che sia in grado di sviluppare competenze, di trasformare le conoscenze in competenze, la scuola che apre le porte, che quindi sia in grado di valorizzare ogni forma di diversità, la scuola che sia protagonista del proprio cambiamento, che non lo subisca, che sia anzi, che lo voglia il cambiamento, benvenuto il cambiamento. La scuola che formi chi fa scuola, che mantenga in servizio le persone che sono in grado di rinnovare la propria competenza professionale. La scuola che sia in grado di orientare i dirigenti, dando loro questa funzione di direttore di un sistema complesso come quello di un'unità scolastica. E la scuola è sostanzialmente che ricerca il contributo di tutti per essere quello che deve essere, cioè il luogo dell'istruzione. La scuola ha il mandato di garantire a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, nei più di due decenni di vita, quel livello di istruzione, quel presa di possesso della cultura in cui si vive e che ogni generazione ha il diritto e il dovere di mantenere e di sviluppare, prendendolo dalla generazione precedente. Noi siamo dei giganti, noi siamo in qualche modo un bambino di dieci anni, ha più conoscenze di fisica di Galileo Galilei, ma non perché sia più bravo di Galileo Galilei, ma perché è salito sulle spalle di un gigante, che era salito sulle spalle di un gigante e tra questi giganti c'era anche Galileo Galilei. Ecco, questo è il senso profondo che la scuola deve garantire a tutti e queste sono un po' l'esperienza che penso, l'esperienza di di riconnessioni cerca in qualche modo di fare. Ci lo dice il presidente della fondazione per la scuola del Comune di San Paolo, il Dio di Comune. Grazie. Grazie Domenico. Buongiorno a tutti, grazie all'ISMEL per questa iniziativa e per le iniziative che fa, perché poi noi con loro lavoriamo tutto l'anno, non solo nel momento in cui c'è un momento grande di lavoro. Ma non c'è dubbio, Domenico, questo periodo di lockdown ha creato una situazione in cui le diseguaglianze sono aumentate. Ci ha messo di fronte al fatto che le scuole sono diverse, sono diverse come risorse, sono diverse come competenze degli insegnanti, sono diverse come insegnanti che ruotano perché sono stabili o perché invece ruotano come delle trottole, sono diverse come luoghi territoriali e soprattutto nel momento in cui diventa più importante, come è stato in questo periodo, il ruolo non solo della scuola ma anche del territorio e delle famiglie, i territori più ricchi e le famiglie che hanno maggiori possibilità aumentano le diseguaglianze nei percorsi di apprendimento, nei percorsi di crescita dei nostri bambini e questo è un problema drammatico del nostro paese perché la diseguaglianza anziché crescere, anziché diminuire in questo periodo tende a crescere. Allora io credo che un po' Riconnessioni, che è nato prima del lockdown, il Riconnessioni è un progetto che è nato prima di questa situazione che abbiamo cercato poi in questa situazione di emergenza di piegare di più alle esigenze di oggi. Gli obiettivi che ha Riconnessioni sono obiettivi che tengono insieme l'innovazione e il miglioramento del sistema scolastico. Però l'obiettivo di fondo non è un obiettivo tecnologico, lavoriamo molto sulla tecnologia, ma l'obiettivo di fondo è fare in modo che gli interventi infrastrutturali aiutino e facciano crescere i progetti della scuola. Perché l'obiettivo è esattamente fare in modo che la scuola possa riuscire a conseguire gli obiettivi che si pone, facendo in modo che la tecnologia sia uno strumento, uno strumento facile da usarsi. L'obiettivo non è la tecnologia, la tecnologia è uno strumento e bisogna pensare che sia così. E quali sono le cose che abbiamo cercato di affrontare? Il primo punto è il fatto che nelle nostre scuole, soprattutto in quelle dell'obbligo dove noi lavoriamo, noi lavoriamo nelle scuole elementari e nelle scuole medie, nelle scuole dell'obbligo noi abbiamo una situazione di partenza in cui la connessione al sistema digitale, ci dicono i dati dell'Agid, superiore ai 30 mega, cioè a quello che ciascuno di noi ha a casa sua, si ferma sotto il 10%. Il che significa che le scuole non hanno a disposizione la possibilità di fare tutto ciò che una didattica digitale richiede, perché non è vero che i bambini utilizzano, per fare la didattica digitale i bambini si utilizzano, perché sono bambini, tecnologie di basso livello. I nostri bambini sono abituati a tenere insieme video, a tenere insieme musica, a tenere insieme suoni, a tenere insieme testi e sono delle cose pesanti e richiedono dei livelli tecnologici elevati. e Riconnessioni tiene insieme lo sviluppo professionale dei docenti, tiene insieme anche il fatto che mettiamo insieme pubblico e privato. Il pubblico è la scuola, il privato è un privato particolare, è un privato fatto di signori che hanno in testa, hanno per missione la filantropia e quindi è un privato tra virgolette buono, è un privato che ragiona su non solo per fare del bene, ma che ha una finalità che non è uguale per tutte le scuole, perché il tema dell'inclusione è sicuramente non uguale su tutte le scuole, ci sono dei luoghi in cui è più radicato, in cui è più difficile lavorare. E prova a mettere insieme tecnologia e questa finalità, provo a dirla in un altro modo. Questa è un'idea che è nata, Riconnessioni è un'idea che è nata da due signori che si occupavano di scuole, che si chiamano uno, Francesco Profumo, che era ministro, e un altro che si chiama Bassanini, che è un signore che oggi è presidente di una cosa che si chiama Open Fiber, che porta la fibra. Il Profumo è anche un signore che si occupa di reti, perché è professore all'università di reti, e quindi nasce come un'idea tecnologica, ma ambedue quando hanno ragionato su il costruire un sistema tecnologico che funzioni per le scuole, hanno detto prima di tutto noi dobbiamo fare in modo che, se vogliamo portare, far sì che il digitale e la connessione sia una cosa simile a quella della luce elettrica, che noi facciamo funzionare con un tasto, senza neanche pensarci, ma la usiamo fino in fondo, bisogna che noi facciamo in modo che gli insegnanti e più in generale i dirigenti scolastici, di SGA, utilizzino il digitale per tutte le potenzialità che esso ha. E quindi dobbiamo lavorare non tanto sulla tecnologia, ma dobbiamo lavorare prima di tutto sulla formazione degli insegnanti, sulla formazione dei dirigenti, sul fatto che nella scuola si abbia un progetto, perché questo è l'obiettivo fondamentale, avere un progetto della scuola e dare delle strumentazioni perché quel progetto possa andare avanti. Possiamo andare avanti. Per noi il protagonista oggi siamo in questa situazione nel nostro territorio. Abbiamo coperto, portando la fibra, a quasi 300 plessi scolastici. Sono 200, sono connessi con la fibra ottica. L'obiettivo che abbiamo è un obiettivo di sistema. Lavoriamo su 90.000 studenti e abbiamo coinvolto 300 plessi scolastici nelle attività di formazione. 1.500 insegnanti sono stati formati direttamente. Uno dei nostri formatori principali è Enrico Gallotto, che vedo che verrà subito dopo. Ma abbiamo fatto in modo che nei patti con le scuole e negli accordi che abbiamo costruito con l'USR, con i comuni, anche con le organizzazioni sindacali, fosse possibile un meccanismo di formazione a cascata, cioè in cui ciascuna scuola costruisce un suo piano di formazione, in cui quegli insegnanti che sono stati formati, in modo autonomo costruiscono un percorso di ulteriore formazione dei propri insegnanti. Certo, c'è un'infrastruttura dietro. È un'infrastruttura che porta, che ha 1200 chilometri di fibra. È una struttura dedicata, quindi è una struttura anche pesante e anche complessa. Ma l'attività, il centro dell'attenzione, il focus dell'attenzione, non è appunto la tecnologia, ma è l'attività di formazione. Possiamo andare avanti. Noi lavoriamo appunto, dicevo, sulla fibra ottica, sulle reti evolute, ma soprattutto sui processi e sulla formazione. possiamo andare avanti. Con le scuole come facciamo? Con le scuole noi abbiamo scelto di fare dei patti. Tutte le scuole che hanno voglia di lavorare con riconnessioni, con il nostro progetto, con la Fondazione per la Scuola, con la Compagnia di San Paolo, partecipano a un accordo per la didattica innovativa. Cioè ragionano con noi su un certo numero di insegnanti che partecipano a dei laboratori e però ragionano su un loro progetto di sviluppo, di sviluppo prima di tutto professionale dei loro insegnanti, ma anche su un progetto in cui lo sviluppo professionale dei loro insegnanti è centrato sulle finalità, che possono essere l'inclusione, possono anche essere l'eccellenza, perché no? Ciascuna scuola farà le sue scelte in modo autonomo, ma è indispensabile che nasca dentro un progetto definito. Andiamo avanti. Questa è la rete, non mi fermo qui sopra, semplicemente la rete che è una rete complessa, che porta fino a 10 giga in tutte le scuole simmetrici, è la rete del Politecnico di Torino, cioè è un modello molto, molto, molto evoluto, che fa sì che la nostra rete sia una rete tra le migliori che ci sono, anzi forse sicuramente è la migliore che c'è in Europa per un sistema scolastico. È una rete dedicata, specifica, che ha quindi dei filtri specifici per le nostre scuole, ma dove ogni scuola è assolutamente autonoma, quindi per esempio non ci sono le pubblicità che tutti i giorni noi troviamo sul nostro internet normale. Andiamo avanti. Quali sono i laboratori su cui lavoriamo? Lavoriamo sul potenziamento attraverso cinque laboratori principali per gli insegnanti, attraverso dei laboratori per i genitori e abbiamo visto che sono molto importanti anche i laboratori con i dirigenti e anche i DSGA, perché la scuola funziona se anche la parte amministrativa è centrata sull'obiettivo della scuola. Su che cosa lavoriamo soprattutto? Beh, lavoriamo sul potenziamento della collaborazione degli insegnanti e tra di loro sul fatto che si capisca quanto con i ragazzini più difficili il digitale può essere utile per aumentare l'inclusività. Per i ragazzini più difficili intendo sia quelli che sono più a rischio di dispersione, che sono in situazioni di maggiore marginalità, ma anche tutti, penso a tutte le disabilità che hanno maggiore facilità di inserimento e di lavoro con i propri compagni quando il digitale viene utilizzato in modo creativo insieme ai loro compagni nel lavoro attivo dei ragazzi. Una finalità che si porta a costruire certamente dei saperi che sono quelli legati alle discipline, noi le chiamiamo materie, chi come me è stato insegnante da tanti anni le chiama ancora materie, ma anche attenti a tutte quelle competenze che sono sempre più indispensabili in questo mondo molto complicato in cui in questi giorni e in questo dibattito hanno citato il fatto che la conservazione è che il World Forum di due anni fa, quando è stato detto che i ragazzi di oggi non sanno quali saranno i mestieri, il 65% dei mestieri che loro dovranno fare non sono ancora stati inventati. Allora in una situazione come questa sicuramente l'incertezza fa sì che noi certamente dobbiamo inrobustirli con tutto, i nostri ragazzi con tutto quel gigante che abbiamo dietro di noi, a cominciare da Galileo, ma anche con una loro capacità di essere autonomi e di orientarsi dentro le infinite risorse e gli infiniti pericoli anche che il sistema internet e la conoscenza diffusa, l'infosfera ci mettono a... e quindi l'autonomia, la capacità di orientarsi, la capacità diventano dei pezzi fondamentali di ciò che anche la scuola deve aiutare a costruire. E questo si fa con la collaborazione, con la capacità di avere percorsi in cui i nostri ragazzi sono protagonisti del loro percorso di apprendimento. Possiamo andare avanti nelle slide. Oggi noi abbiamo anche chi si occupa di nuove tecnologie come l'MIT, che cosa usa? Usa delle parole che siano progetto, passione, gioco, condivisione, che sono le stesse, se andiamo avanti con le slide, che noi abbiamo nella nostra tradizione pedagogica. Sono quelle che... Diui non è la nostra tradizione, ma poi Mario Lodi ci diceva esattamente che noi o riusciamo a fare in modo che l'educazione sia una educazione di comunità, in cui la classe laboratorio, in cui la passione, la collaborazione creativa, o altrimenti i nostri ragazzi fanno molta fatica a diventare delle persone adulte capaci di aver imparato ad imparare e capaci di essere cresciuti anche come soggetti. Possiamo andare avanti nelle slide. La nostra formazione è un modello complicato. Naturalmente lavorando su numeri così grandi siamo anche un po' industriali nella nostra organizzazione. Ma abbiamo sempre cercato di avere un'idea nostra, che è quella un po' industriale, che però permette il bottom up, perché dentro la scuola non si può non lavorare su questo. perché il miglioramento della scuola ha a che fare, mentre nei paesi in cui la scuola funziona poco noi dobbiamo lavorare sulle infrastrutture, McKinsey ci dice, in un bel volume sul miglioramento della scuola, ci dice che là dove i risultati sono già parecchio positivi, l'unica possibilità di andare avanti non è tanto lavorare sulle tecnologie, ma è lavorare sulle competenze professionali degli insegnanti, sull'arricchire, sull'rafforzare le competenze professionali degli insegnanti. E quindi di avere insegnanti che sono capaci di collaborare tra di loro e di sapere ragionare in modo esplicito tra di loro e confrontarsi sulle loro pratiche didattiche, docenti che sono in grado di utilizzare nuove pratiche didattiche che sono validate e utilizzate in modo positivo da altre parti e sono in grado di riflettere sul loro percorso. Soprattutto su insegnanti che sono capaci di costruire esperienze formative e con i loro allievi, perché questo credo che sia l'elemento di fondo. Però poi con le prossime slide vorrei entrare su un punto che è un po' diverso. Andiamo avanti con la slide. Noi abbiamo lavorato con... Andrei avanti con le slide se possibile. Noi abbiamo lavorato in questo periodo non solo con Riconnessioni, ma anche sul tema dell'inclusione, anche lavorando molto, mettendo insieme il progetto Riconnessioni e il progetto SEM. E io credo che questo sia stato una cosa importante, perché ci ha permesso, soprattutto nelle situazioni più difficili, il progetto SEM è un progetto che da tanti anni c'è nella città di Torino. Nelle scuole in cui noi abbiamo lavorato, ci ha permesso il progetto SEM di fare in modo, uno, che la piattaforma nel momento del lockdown venissero utilizzati prima. Sono state molto più veloci, le classiche avevano SEM, sono 138. Sono state molto più veloci e all'inizio di marzo, già a metà marzo, erano in grado di utilizzare le piattaforme interrette. Quindi possiamo andare avanti con le slide, ma ne vedo sempre la stessa. E anche a questo punto quella dopo. Esatto. E credo che la cosa più importante sia il fatto che mettere insieme le nuove tecnologie, ma anche gli educatori professionali, che lavoravano da tempo insieme alle scuole, ha permesso di lavorare, di fare in modo che i ragazzi che sono nelle classi del SEM non sono stati raggiunti dalla didattica a distanza, siano solo il 3%. E credo che sia un risultato molto, molto rilevante, perché questo risultato è stato permesso dal fatto che abbiamo messo insieme tecnologie, il fatto che c'erano degli insegnanti formati, il fatto che c'erano dei giovani educatori che erano anche loro stati formati insieme agli insegnanti nelle attività di riconnessioni, ma il fatto che questi educatori erano anche dei signori che erano presenti nel territorio e che riuscivano ad andare là dove le scuole non riuscivano ad arrivare e quindi che riuscivano a, nel momento in cui la scuola faceva fatica ad arrivare ad alcune famiglie, ad alcuni ragazzi, non solo portargli il computer, ma perché nel momento in cui magari portavano il pacco di pasta, alle molte famiglie che sono entrate in povertà in questo periodo, erano anche in grado di aiutarli a formatare, a collegarsi con il sistema della loro scuola. Ecco, io, se andiamo sulla prossima, però credo che abbiamo già recuperato un po' di tempo, però vorrei solo dire che abbiamo svolto anche un ruolo un po' di, nel periodo del lockdown, noi abbiamo fatto molti appuntamenti di webinar con tanti soggetti. Abbiamo visto che abbiamo avuto tante persone che si sono collegati e si collegavano quando noi eravamo in grado di dare strumentazioni, di dire, di entrare di più nello specifico del lavoro degli insegnanti. Certo, hanno avuto successo quelli in cui abbiamo parlato di temi che erano acuti, come quelli della privacy, ma quelli della creatività o dell'insegnamento della matematica sono arrivati a 2.900 persone collegate. Parliamo di persone soprattutto del territorio piemontese, naturalmente i webinar sono aperti a tutti. Ripartiamo adesso, perché ci viene rifatta una richiesta di lavorare di nuovo su questo tema e cercheremo di lavorare a partire da che cosa? A partire dal fatto che le reti, abbiamo costituito quattro reti di riconnessioni che hanno per noi l'obiettivo di fare in modo che le scuole siano autonome, non abbiano più, noi tendiamo a scomparire come Fondazione per la Scuola, come Compagnia di San Paolo e le scuole anche organizzate in rete costruiscono dei percorsi autonomi anche sull'insieme dei temi che abbiamo toccato, ma diventano anche capaci di costruire momenti di webinar, di formazione congiunta tra di loro e magari di formazione anche delle altre scuole. Concluderei con un'ultima slide in cui mettiamo alcuni dei risultati quantitativi, ma in parte li ho già detti, e poi quelli qualitativi che sono quelli più importanti. E quelli qualitativi che sono quelli più importanti è il fatto che abbiamo costruito, quella dopo, che abbiamo costruito, io credo una comunità importante nel nostro territorio. È quella che noi vediamo nei webinar di questo periodo, ma vediamo sul fatto che anche nel momento in cui noi tendiamo a ritirarci, le attività di formazione continuano nelle scuole in modo autonomo e indipendenti da noi. E soprattutto che ci vengono fatte le richieste in modo esplicito, e quindi che non siamo noi a andare a portare delle cose, ma che sono le scuole che in modo autonomo costruiscono dei percorsi in cui la parola inclusione, la parola sviluppo, la parola miglioramento utilizza anche le nuove tecnologie in una propria programmazione autonoma. Vi ringrazio e buona continuazione. Vi ringrazio io veramente, Ludovico Albert. È un'impresa quella che è la riconnessione aranciata alle scuole e mi pare molto importante questo richiamo, cioè il fatto che chiamare le scuole ad assumersi la responsabilità nel gestire, nel governare questo processo di innovazione. Autonomia vuol dire responsabilità, le scuole devono essere veramente in grado di capire questo bilancio. La seconda esperienza invece parte dalla scuola, insomma, da competenze presenti nella professionalità degli insegnanti. Qui l'esperienza opera proprio sull'innovazione dei percorsi e dei processi che in qualche modo determinano lo sviluppo dell'insegnamento-apprendimento. Mi pare che una parola che potrebbe essere, un concetto che potrebbe essere chiave che è contenuto nel titolo della relazione di Enrico Gallotto è quella scuola che impara dall'esperienza. Ecco, forse questo è un dato che dobbiamo ribadirci. Non esiste separazione, non può esistere separazione tra processo conoscitivo e esperienzialità. Il grande Diui diceva la scuola è il luogo dell'intellettualizzazione dell'esperienza. Io la trovo una cosa straordinaria come proposta. Intellettualizzare l'esperienza, dare all'esperienza quello spessore culturale che la rende effettivamente consapevole. La parola è Enrico Gallotto. Enrico Gallotto è un insegnante con delle grosse competenze sul terreno dell'innovazione tecnologica, della cittadinanza digitale. So però che la cosa che a lui interessa di più è pensarsi come insegnante. Io penso che in effetti la nostra dicitura insegnante non sia una cosa da aggiungere ad alto, insomma, ma semmai le altre sono dentro alla ricchezza della nostra professionalità. Enrico Gallotto. E buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio Ismael e il dottor Chiesa per aver creato questo evento che io spero possa essere il momento in cui anche chi non opera nella scuola direttamente ma viene magari dal mondo del lavoro possa mettere così un po' gli occhi e entrare nella scuola e vedere che cosa sta accadendo. Approfitto anche per ringraziare il presidente Albert e la fondazione. Forse non c'è mai stata occasione. Io sono stato uno di quegli insegnanti che sin dalla prima ora ha partecipato e ha vissuto il progetto Riconnessioni e lo ringraziamo in particolare anche per lo stile col quale l'avete fatto. Nella formazione ci siamo sempre sentiti molto coccolati anche ed accolti e poi i tre pilastri importanti della formazione avere la possibilità di apprendere ma anche di sperimentare subito quello che si imparava e poi poterlo condividere e in ultimo questa idea di rendere la scuola comunque sempre autonoma per poter continuare il proprio cammino sono stati veramente elementi vincenti di questo connubio. Certo la fondazione, il progetto Riconnessioni è un esempio virtuoso di quella che è l'integrazione tra sinergie tra quelle che sono le indicazioni del ministero i progetti del ministero la realtà locale delle scuole comprese di patrimonio umano e professionale e appunto come già accennava il presidente Albert il connubio col terzo settore veramente è stata un'esperienza che sta continuando che in questo momento non nascondiamolo conosce un momento di difficoltà difficoltà perché gli insegnanti i dirigenti il mondo della scuola è un attimo gravata come lo sapete non siamo solo un caso sanitario lo vogliamo qua oggi parliamo di didattica però effettivamente come per tutte le realtà sociali siamo veramente così schiacciati da questa situazione per prendere così il via dalle mie poche considerazioni mi viene in mente presidente Albert quando per riconnessioni lanciò il progetto attraverso anche quella piccola animazione che vedeva come protagonista la studentessa Viola se lo ricorderà l'idea era molto interessante di per sé è solo un'animazione ma qua dentro c'è tanto Viola è una bambina dicevate che inizia ora la sua carriera scolastica il suo percorso e noi ci poniamo vediamo nel 2030 e ci chiediamo di quali conoscenze e quali competenze soprattutto avrà bisogno Viola per affrontare la sua vita professionale lavorativa ma anche di cittadina europea di cittadinanza attiva questa questa semplice animazione secondo me conteneva già tutti gli elementi fondamentali dell'innovazione della didattica e cioè innanzitutto avere una vision chiedersi dove dobbiamo arrivare quali saranno le competenze la seconda cosa voi non avete parlato in quell'animazione di uno studente tipo avete parlato di Viola avete fatto un nome e questo mi dà l'idea che la scuola debba essere e lo è sempre più incentrata sulla personalizzazione dei percorsi stiamo parlando di inclusione anche inclusione vuol dire permettere a tutti con minori capacità minori non devo dire minori capacità ma più difficoltà o meno difficoltà più o meno agevolati di percorrere dei propri la scuola di ciascuna si diceva prima dei propri percorsi devo dire che il progetto riconnessioni negli ultimi tre anni però in modo che tutti capiscano dov'era lo stato dell'opera che cos'era la scuola diciamo prima di questa di questa epidemia questo il progetto riconnessioni si innestava su altri percorsi io farò un uso un po' strumentale mio della differenza tra percorso e processo ma per dirvi che i percorsi c'erano già nel senso che e ben dal 2010 per la scuola secondaria e superiore dal 2012 che le indicazioni nazionali per il curriculum danno una vision di dove dobbiamo arrivare parlano di competenze superano il concetto di programma e nozione dando importanza alla sicuramente alle conoscenze le tante conoscenze ma che poi vanno raccolte coinveglia convogliate in abilità e competenze del del cittadino di domani dell'adulto di domani oltretutto sempre nelle indicazioni nazionali mi riferisco in particolare a quelle del primo ciclo si sottolinea proprio quanto sia importante la centralità del ruolo attivo dello studente e questo poi ci ritornerò tra poco è fondamentale non parlavamo di percorsi paralleli sui quali si è innestato anche il progetto riconnessioni vogliamo ricordare le dici compedu del centro comune di ricerca europeo che sono le indicazioni anzi le competenze chiave europee che vengono individuate per permettere a ogni cittadino di essere un cittadino attivo in una società che sarà una società sempre più digitalizzata in senso più ampio vorrei parlare anche dell'ONU e dell'agenda 20 e 30 ma non così tanto per citarla perché alcune scuole piemontesi proprio hanno costruito una rete in cui si occupano di perseguire alcuni dei goal che sono poi quelli individuati per uno sviluppo sostenibile del mondo quindi voglio dire il terreno su cui lavorava la scuola era già molto ricco non ultimo 2015 2020 5 anni di piano nazionale per la scuola digitale con un investimento oltre che di fondi di iniziative quelle che vengono chiamate le azioni che hanno visto anche oltre bandi pon attività di vario tipo appunto le azioni anche l'istituzione dell'animatore digitale io ogni tanto cerco di ricordarli questi miei poveri colleghi continuerò a sentirmi collega tra colleghi e sono persone che spesso vengono così sottovalutate nel senso che sono poi quelli che magari vanno a vedere se il cavo di connessione Ethernet era collegato alla scuola questa è la scuola di tutti i giorni mentre in realtà dovrebbero occuparsi di innovazione della didattica non ultimo negli ultimi due anni la costituzione delle equip formative territoriali a sostegno del piano nazionale scuola digitale e a supporto delle scuole e voglio dire la scuola prima di questa epidemia era già pronta ad affrontare queste sfide che cosa non può non aver funzionato cioè che cosa non si è trasformato da percorso in processo e poi buone pratiche oppure che cosa è un po' da cui volevo partire su che cosa non abbia funzionato su a quale punto ogni istituzione che vive di una propria autonomia appunto che cosa non abbia funzionato va valutato a livello di collegi recenti di singola istituzione però i percorsi c'erano ed erano ben tracciati non vorrei che sembrasse anche da grandi titoloni dei quotidiani che hanno un po' triturato la scuola in questo ultimo periodo che si pensi ad una scuola che non fosse per nulla preparata che si trovate così in braghe di tela e che in qualche modo ha cercato ha tentato una soluzione non è così certo c'è molto da fare bisognerà interrogarsi a livello di ogni istituzione di ogni istituto su che cosa è stato fatto e quanto i processi siano diventati buone pratiche però questo c'è stato ora vorrei però non vorrei che il mio neanche tanto celato entusiasmo per il digitale non permettesse di vedere quali sono stati i problemi il mio istituto ad esempio si estende sulle circoscrizioni 6 e 7 del Comune di Torino quindi quartiere Aurora e Barriera di Milano e da sempre veramente da sempre sono stati luogo di immigrazione immigrazione difficoltà economiche delle famiglie difficoltà povertà culturali e devo dirlo anche per giustizia nei confronti dei dirigenti dei miei colleghi che veramente intanto noi scherziamo diciamo tutti i giorni siamo in trincea perché la situazione è sempre un po' di emergenza e per carità è il nostro lavoro non è che alle volte è difficile per noi insegnanti ovviamente in momenti come questo è ovvio ma sempre poter avere la vision cioè poter lanciare ancora un attimo gli occhi verso gli obiettivi finali perché proprio perché presi dal contingente dal frontale lavoro di tutti i giorni e anche in questo senso progetti come Riconnessioni ci hanno aiutati di nuovo a riaprire un pochino la nostra visione del fare insomma orientare il nostro operare è stato detto è stato detto ah ma la didattica a distanza è stato uno sfacelo ha aumentato il divario tra i bambini di serie A e serie B quelli che avevano quello che non avevano o comunque ha esasperato l'esclusione la diseguaglianza la dispersione beh in parte è ovvio perché mancano i mezzi manca la connessione a parte che non vorrei che ricadesse tutto sulla scuola cioè il digital device non sono situazioni che la scuola risolve così stamattina parlavamo con il dottor Albert anche sulla questione dei trasporti la scuola non può risolvere tutto la scuola è per questo che vorrei parlare di didattica più che di altre problematiche io non sono del tutto d'accordo sul fatto che la didattica quella che veniva chiamata che a me non piace chiamare didattica a distanza abbia esasperato l'esclusione e diseguaglianze forse potremmo dire che la didattica a distanza è stata un'impietosa lente di ingrandimento che ha messo ancora più in rilievo quelle che fossero dei problemi di disagio sociale in buona sostanza che abbia rimesso che abbia raccontato storie di povertà anche familiare di povertà sicuramente educativa e non di rado a noi è successo storie di isolamento culturale o di genere mamme che non vedevano l'ora di incontrarci nel monitor magari solo attraverso lo schermo di un cellulare per poter parlare con qualcuno questo è anche successo vi invito a fare un semplice così esercizio di fantasia ma se questa epidemia fosse capitata in piena era analogica torniamo alla macchina Olivetti al telefono con il combinatore a rotelle al ciclostile ma che cosa avremmo fatto che cosa avremmo pensato cosa saremmo riusciti a fare di meglio mi ricordo i tempi in cui per permettere agli studenti di leggere di più si facevano diverse attività ad esempio i famosi questionari fatti con la classe che recitavano quanti libri hai in casa meno di dieci più di dieci qual è il titolo di studio dei tuoi genitori in sostanza stavamo cercando di capire quale fosse sul strato culturale della famiglia se il bambino fosse in grado di cavarsi da solo e quanti strumenti aveva perché il libro non è null'altro che forse il primo esempio di strumento per la didattica a distanza ecco quando ti dicevano meno di dieci sapevi già che forse erano comprese le pagine gialle l'album delle figurine panini un vangelo regalato dal parroco alla comunione e forse qualche libro di testo è ovvio che ora abbiamo molti più strumenti e che il digitale ci permette un'infinità di strumenti in più è ovvio rimane un problema che cosa ne facciamo di questi strumenti il problema non è utilizzare gli strumenti non è sapere utilizzare gli strumenti il problema non è la tecnologia il problema è quali obiettivi abbiamo e allora con quegli obiettivi cioè qua ad esempio quali competenze vogliamo sviluppare allora secondo di quello che vogliamo fare stabiliremo utilizzeremo degli obiettivi mi piacerebbe poter parlare di una didattica in presenza integrata integrata da cosa da questi grandi strumenti che ci permettono di ampliare a dismisura le possibilità e le potenzialità di una scuola perché non è un problema di tecnologia vi faccio un esempio è un po' autoreferenziale nel senso che tira in ballo l'equipe formativa territoriale del Piemonte di cui faccio parte visto un problema si cerca una soluzione non un po' l'idea del problem solving che alle volte proponiamo anche ai nostri ragazzi si è visto che in molte zone del Piemonte non arrivava la rete questo in tempo di scuola normale più o meno era tollerato con il lockdown è stato un disastro bene i miei colleghi soprattutto quelli che sono a contatto con le scuole delle valli o delle zone in cui non arriva hanno posto problema e uno di noi ha detto bene torniamo alla radio torniamo alla modulazione di frequenza sono state contattate le radio locali che hanno un certo seguito proprio a livello locale territoriale con soprattutto penso ai paesini alle piccole valli con le famiglie i nonni i bambini e i genitori e attraverso quel mezzo due volte al giorno le maestre i maestri gli insegnanti delle scuole proponevano delle attività dei racconti cercavano di tenere attivo quel legame anche affettivo educativo che era stato creato non è stato risolutivo è ovvio che non è stato risolutivo ma è stata una risposta utilizzando uno strumento uno strumento tornando indietro nel tempo penso di 40-50 anni alla nascita delle radio locali e delle FM mi piacerebbe appunto stavo dicendo parlare di una didattica in presenza integrata che cosa ecco che cosa non ha non ha funzionato innanzitutto bisogna dire che mi piacerebbe poter pensare anche come è già successo in parte nella nostra vita che rispetto a un evento molto pesante che ci ha visti soccombere rispetto alla vita se siamo riusciti a metabolizzarlo e a superarlo col tempo abbiamo detto che siamo cresciuti in quel momento abbiamo dovuto fare un qualcosa che ci ha permesso di crescere molto speriamo che anche questa esperienza della scuola cioè della scuola l'esperienza che stiamo vivendo tutta la società civile permetta anche alla scuola di crescere molto che cosa non ha funzionato per certi aspetti non ha funzionato perché pensare al al digitale proponendo la lezione frontale sul digitale attraverso monitor è di per sé già fallimentare bisognerebbe forse dire che per fare didattica digitale bisogna pensare in digitale bisogna pensare in un modo diverso ma forse vuole anche dire che quello stesso modello di didattica frontale forse è già fallace in classe in presenza cioè forse è già lì che bisognava agire al di là del digitale faccio un piccolo riferimento lezione frontale in classe che cosa succederà succederà quasi sempre che avrò un gruppo il solito gruppetto di allievi più vivaci che rispondono interagiscono un gruppo che proprio si sta distraendo sta facendo altro e un gruppo che vorrebbe anche intervenire ma magari ha bisogno dei suoi tempi dei suoi tempi di poterlo elaborare nel tempo questo è una lezione didattica in presenza portiamo questo attraverso lo schermo di un computer non può che peggiorare la situazione dietro un click dietro una telecamera spenta si esasperano queste dinamiche non è questa non è questa trasposizione che può funzionare allora cosa può funzionare la scuola non deve diventare una scuola in streaming come qualche volta siamo stati definiti in questi giorni cioè appunto la semplice e mera trasposizione di quello che facciamo in una lezione frontale su un video quando parliamo di digitale per forza di cose in questi ultimi mesi le scuole si sono dotate di una piattaforma e la piattaforma ha diversi strumenti lavorare in una didattica digitale vuol dire ad esempio prevedere un momento di videoconferenza sincrona magari di tempo sempre più grande in riferimento all'età dei bambini perché più sono piccoli più hanno bisogno del nostro del nostro legame anche visivo e poi però magari utilizzare gli strumenti per lavorare in gruppo per condividere dei documenti non necessariamente per stare al video cinque ore gli strumenti sono stanti posso creare appunto dei lavori di condivisione sui documenti seguirli come se entrassi uscissi da una classe o dall'altra come se lavorassi in avessi messo i ragazzi a lavorare in gruppo attorno a dei tavoli e poter costruire con loro dei percorsi che li vedano però attivi a casa non passivi a guardarci nel monitor mentre noi cerchiamo appunto di trasmettere un qualcosa le conoscenze si possono trasmettere ma le competenze si devono costruire e non possiamo costruirle noi per i nostri ragazzi dobbiamo per forza appunto ci parlava di processi dobbiamo per forza pensare a dei processi che vengono avviati in cui la parte attiva la fa lo studente e noi li aiutiamo a seguire i percorsi e aiutiamo anche e valutiamo assieme il percorso questo ci toglie anche un po' mi rendo conto stavo dicendo dall'incombenza di valutare non volevo proprio dire questo mi rendo conto che per la scuola secondaria superiore possa essere più complesso laddove le conoscenze diventano anche più complicate però si possono lo stesso strutturare i percorsi si parlava prima di creatività l'arte dell'insegnante è fatta anche di creatività di soluzioni che non sono mai fatte precostituite pronte per essere utilizzate così stavo parlando dei vari strumenti sì il rischio mi ero mi ha segnato un piccolo appunto sul rischio di una certa frammentazione del sapere utilizzando il digitale cosa possibilissima è anche vero che anche nelle indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo non esiste più un programma che va seguito in senso lineare esistono esiste la possibilità ecco di in modo molto elastico di affrontare le diverse tematiche di ricollegarle quindi quando ho sentito dire lo scorso anno è stato un disastro perché nella scuola non avete potuto concludere il programma ecco questo sicuramente c'è stata una mancanza di ore di attività però può non avere nessun senso nel momento in cui cerco di definire invece dei percorsi che portano a delle competenze un altro problema gli insegnanti e la formazione degli insegnanti abbiamo già visto prima come proprio l'insegnamento del progetto di connessioni non può esistere formazione se in realtà poi tu non vai a sperimentare ad attuare quello che hai imparato il valore dell'esperienza vale per i ragazzi vale per noi e io ho apprezzato moltissimo quando l'altro anno i miei 187 colleghi dopo un primo sbigottimento che ha preso tutti un disorientamento totale si sono messi in gioco e hanno iniziato a lavorare io vorrei anche dire che se pensiamo di essere più bravi a smanettare così dei nostri ragazzi sugli oggetti digitali è chiaro che abbiamo già perso in partenza non è questo il nostro ruolo bisogna avere anche il coraggio di essere credibili coi propri allievi e manifestare anche le proprie insicurezze non aver paura dell'errore io penso che l'errore in questa scuola innovativa sia la rivalutazione dell'errore non in quanto errore ma quanto la possibilità di fare un punto della situazione di ripartire senza soffermarsi quindi anche la valutazione non come momento definitivo in cui io do un giudizio sulla persona e sulla performance del momento ma individuo quel momento come uno dei momenti di un percorso e anche l'insegnante deve poter ammettere i propri errori ragazzi lavoriamo insieme a distanza voi siete bravi sono imbranato bene costruiamo lo stesso qualcosa io vi do i contenuti vi posso mettere a disposizione del materiale da leggere vi dico quale potrebbe essere la traccia poi voi iniziate a produrre e io che sono l'adulto vi insegnerò a scegliere le fonti a validarle a metterle assieme e a orientare i percorsi e poi magari sbaglierò delle cose tecniche ma assieme andremo penso che sia importante per l'insegnante questo non aver paura nel buttarsi è vero noi come insegnanti nella scuola italiana penso di non sbagliare siamo tra virgolette un po' maturetti siamo più della metà di noi supera gli anta non so qual mi pare i 50 spero però anche non è da sottovalutare questa questa possibilità di buttarsi comunque a sperimentare voglio esagerare non è mica detto che per svolgere una determinata un determinato argomento io debba spiegarlo ai ragazzi perché devo spiegarlo io posso magari mettere i ragazzi in condizioni di esaminare un certo tipo di materiale proporre delle riflessioni e pretendere da loro dei contenuti secondo un'elaborazione che viene magari da loro competenze che possono riguardare linguaggi diversi non necessariamente il linguaggio scritto vorrei concludere con una considerazione l'UNESCO in una recente indagine ci dice ci ricorda che è più probabile che abbia un successo formativo un bambino povero in una società anche tecnologicamente evoluta in una scuola innovativa piuttosto che un bambino ricco in una società povera da questo punto di vista grazie veramente certo che purtroppo il tempo ci impedisce di approfondire ulteriormente ma ne avremo tempo io vorrei solo fare un'osservazione di chiusura abbiamo così siamo incontrati con due esperienze molto interessanti mi pare che proprio dai commenti dalla riflessione dei due relatori emergano le chiavi che fanno la differenza in queste esperienze io ve le propongo come le ho lette io come le ho viste io in questo momento l'innovazione non è un punto a capo ma è invece la capacità proprio di è un innesco è un dare nuova vitalità ad una sperimentazione ad una didattica che in qualche modo deve essere migliorata in secondo luogo la differenza è quando si riesce a passare dall'innovazione didattica ad un progetto educativo più evoluto o meglio quando si riesce ad avere un progetto educativo che riesca a comprendere un'innovazione didattica molto evoluta molto alta molto complessa fa più danni un insegnante con il computer che non un insegnante con la lavagna con il gesso se non è in grado di digestire la complessità perché dietro c'è la cosa importante è questo progetto diciamo culturale e quindi secondo me la cosa che emerge è che bisognerà assolutamente accompagnare questo importante processo di innovazione didattica segnata dalle tecnologie con l'impegno ad aumentare le competenze della ricerca psicopedagogica e della ricerca sul curriculum della ricerca sulla capacità dell'insegnante di coniugare appunto questi due elementi forse è qui la vera scommessa che dobbiamo cominciare a fare in questo periodo in cui molto correttamente è stato detto abbiamo visto sotto una lente di ingannimento come la scuola in presenza non funzionava prima era una scuola trasmissiva per buona parte e molti l'hanno riprodotta anche nelle attività a distanza e la stanno riproducendo adesso che sono tornati in classe è proprio lì che bisognerà lavorare e sarà un lavoro veramente molto intenso io lavoro nell'associazione professionale degli insegnanti e so quanta difficoltà e quanto impegno però mettono le scuole e molti insegnanti in questa direzione fondamentale è quello di curare lo spessore di cultura pedagogica che non è ancora sufficiente e purtroppo lo spessore di cultura pedagogica è una cosa molto più complessa molto più profonda è come la parte immersa dell'iceberg che non si vede ma è quella che regge la parte che invece può emergere e quella su cui poi possiamo operare io continuo a ringraziare i due relatori la mattinata si sta chiudendo sono le 11 esatte insomma si può passare poi all'ultima sessione della parte dedicata alla scuola grazie ancora arrivederci grazie a voi grazie a voi grazie a voi